Roghi a Battipaglia. In poco più di 42 giorni la città ha subito 22 incendi. L'amministrazione francese tenta di agginare il fenomeno con un ampliamento temporaneo del centro di raccolta comunale e l'incremento delle guardie ambientali. Per quanto concerne l'isola ecologica di Albaci, finirebbe il pattume che al momento non si riesce a raccogliere del tutto, in quanto il TMB non ha spazio. L'assessore Carolina Vicinanza e la sindaca giaciglia francese hanno chiesto all'ASLE e all'ARPAC il parere per redigere un'ordinanza che consenta un temporaneo ampliamento del centro di raccolta comunale di Via Spineta. Altra esigenza è scongiurare la creazione di mini discariche che sono già presenti in molte zone della città. Per questo saranno aumentate le guardie ambientali volontarie, che sono otto con più poteri, consentendo maggiori controlli per prevenire lo sversamento di rifiuti. Il tutto con l'ausilio della SMA Campania, con la creazione di un'app telefonica dove segnalare incendi e discariche. L'amministrazione infine ha predisposto nel progetto sicurezza delle telecamere da installare nei principali luoghi, nei quali vengono lasciati rifiuti e sanzionare i colpevoli.